Macro categoria imprese, categoria innovazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e consulenza aziendale. Leggiamo insieme la motivazione. Per supportare le aziende nei loro cambiamenti strutturali e organizzativi attraverso la promozione del valore della conoscenza e dell'innovazione tecnologica per l'affiancamento anche dei clienti che intendono creare delle start up trasformando un'idea in un'impresa. Il premio va a KT Consulting e con me oggi sul palco eccolo che sta arrivando il CEO Meluccio Piricone. Grazie per essere qui. Buongiorno e grazie a voi. Complimenti. Se avvicini pure al premio è importante questo primo momento poi dopo naturalmente a posteriore dopo averlo ricevuto faremo altre foto ma questo è il momento in cui viene assegnato ufficialmente quindi prego si accomodi grazie per essere qui di nuovo. Grazie a lei. Che cosa che cosa significa questo riconoscimento? Beh è un riconoscimento importante. Diciamo che è un ulteriore inizio non è un traguardo. Iniziamo di poterne avere ancora altri nel prossimo proseguo ma sono il riconoscimento di 26 anni di attività professionale. Insomma diciamo un primo riconoscimento dopo però tanti anni di attività. Beh a questo punto insomma abbiamo già lanciato la sfida per un prossimo ulteriore riconoscimento che possa essere una costante innovazione quindi noi puntiamo a crescere e continuare ad assistere la nostra clientela e amiamo le sfide come è stato nel 2008 andare in Cina aprire uno studio. Abbiamo ambizioni importanti per i prossimi anni. Ecco quindi l'anno prossimo insomma potreste essere ancora dei nostri. Vediamo anche perché sarà credo però adesso questa seconda domanda ci porta direttamente alle sfide che volete affrontare da questo momento in avanti collegandoli con quelle che avete già affrontato in questi 26 anni. Ci sarà molta più accelerazione in tanti processi proprio per l'anno che abbiamo vissuto. Perciò cosa vi aspettate? Esatto. Ci aspettiamo che la parte tecnologica come sta poi il nostro nome Key Technology Consulting ci accompagni in questa nuova era fondamentalmente io credo che quello che andremo a sviluppare nelle prossimi anni è proprio un'era tecnologica quindi molto più attività di digitalizzazione, informatizzazione e accompagnare le aziende in questo cambiamento sarà una sfida importante. Certo infatti peraltro clienti che magari hanno già delle attività ma soprattutto chi vuole dare vita nuove attività e voi le aiutate proprio nel processo dall'idea fino alla realizzazione perché spesso la difficoltà sta proprio lì. Trasformare un'idea in un'azienda non è una cosa così evidente quindi di conseguenza è proprio lì la nostra abilità di accompagnarli in questo percorso. Esatto e poi le imprese credo in questo momento hanno ancora più bisogno di un supporto come siete voi proprio per quello che è accaduto. Ha bisogno di entusiasmo quindi di colore e di passione quindi fondamentalmente noi li vogliamo affianchiare in questo momento difficile trasmettendo le nostre capacità, la nostra passione nel realizzare le loro idee. Perfetto quindi insomma tante sfide per il futuro insomma non si contano credo. Speriamo che siano tante. Va bene allora complimenti eccellenza dell'anno innovazione consulenza aziendale peraltro già nel nome del premio c'è la parola chiave innovazione che lei ha citato e poi chiaramente l'innovazione tecnologica quindi doppia importanza, esatto, abbinamento ancora più intenso quindi può ritirare il premio. La ringrazio. Grazie a Meluccio Piricone, CEO di KT Consulting e naturalmente complimenti a tutto il team per il lavoro svolto in questi 26 anni è quello che arriverà ancora. Grazie mille. Grazie a tutti.